Chiara Ferragni e Fedez celebrano il loro primo anno d'amore con una raffica di selfie. Anche Ott, baci e coccole in giro per il mondo. Con quella proposta di matrimonio fatta a maggio sul palco sempre in sottofondo foto private. Video 1. L.A. Proposta. Video 2. L.A. N.C. I.D. E.N.T. E.S. X.I. Video 3. Scherzi nel lettone Chiara Ferragni, Fedez gelosissimo, G.U.A.R.D.A.N.N.I.V.E.R.S.A.R.I.O. D'oro tra una settimana della moda e l'altra. Con mille cambi di sexy look. E il pancino che non cipì. Guarda, la fashion blogger e il rapper festeggiano il primo anniversario. Fedez e Chiara Ferragni, Acrobazia in spiaggia. L'amore si fa a hot esclusivo Instagram sempre insieme la coppia d'oro. Di moda e classifiche. Posta sui social e foto della vita sotto ai riflettori. E no, in giro per il mondo. Da Parigi a New York. Da Venezia a Milano. Sempre insieme. E pensare che un anno fa. Guarda la loro prima uscita pubblica. Foto, video. C'era chi pensava una love story per Publicit Chiara Ferragni quando ancora non era Chiara. Ferragni. Le foto sono superote G.U.A.R.D.A.L.T.R.O. Su MSN. Sergio Arcuri. Grazie a Manuela ho conosciuto la mia nuova fidanzata Valentina. Rai. Riproduci nuovamente video. I M P O S T A Z I O N E N O N E Attivo. H D H Q S D L O. I M P O S T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T I O N E T